Uè, bentornati all'Infiltrato, la serie che analizza alcune tra le community più interessanti del web. Oggi ci occupiamo di tecnologia e parleremo di sci e chimiche, di 5G, di microchip e di tutte quelle belle favolette che ci raccontano i nostri tecnocomplottisti. Iniziamo! Ciao a tutti, oggi ci occuperemo di tecnologia malvagia, vale a dire che mi sono infiltrato in tutti quei gruppetti che parlano di bioingegneria e di geoingegneria, due parole complicate che fanno già paura solo a sentirle e quindi provocano terrore irrazionale e odio cieco. Il nemico in questi gruppi prende il nome di transumanesimo. Allora, di base il transumanesimo è una disciplina che punta a sviluppare la tecnologia per porre rimedio o migliorare le performance dell'essere umano in diversi ambiti, fisiologici, fisici, biologici, ma i nostri amici complottisti lo reinterpretano lievemente. Riproduzione artificiale, editing genetico, ideologia gender, industria dell'identità di genere, bio-nanotecnologie, biologia sintetica, intelligenza artificiale, parti dello stesso processo transumanista di penetrazione nel vivente e nei corpi, tutti, al fine di smembrarli, modificarli, artificializzarli, digitalizzarli, ricrearli nei laboratori. L'eugenetica, da sempre, motore delle ricerche genetiche, cambia linguaggi e corpo umano. E in questo periodo, infatti, ci vanno a nozze. Dalla più classica accusa che il vaccino sia un'arma biologica per sterminarci tutti, ecco la prova! È olocausto, genocidio, debbono morire almeno il 50% dei cittadini del mondo. Leggilo tutto, leggilo due volte, leggilo e poi condividi! Un breve sunto! Per la prima dose si aspettavano 2034 morti nella fascia 30-69 anni e 13.511 morti nella fascia 70 più! Solo nella prima settimana! Nella seconda settimana, invece, ho capito! Vediamo queste prove! Non sto più nella pelle! Ma, 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 ma no, regà, ma è il rapporto dell'AIFA! Ma secondo voi sarebbero così scemi da pubblicare una cosa del genere? Proprio, oh, cazzo, ho premuto invio e mi sono dimenticato di eliminare il dato super segreto! Vabbè, ormai sono le 18, ormai in stampa, vabbè, stacco, ciao! Regà, l'analisi osservato-atteso è un'analisi che confronta il numero di casi che si osservano dopo un determinato fenomeno, in questo caso la somministrazione di un vaccino con il numero di casi che ci si attende normalmente nella popolazione prendendo il dato delle tavole ISTAT, in questo caso di mortalità In sintesi, il dato in colonna osservati dovrebbe essere maggiore degli attesi se ci fosse correlazione perché vorrebbe dire che il fenomeno aumenta la probabilità, in questo caso, di morte Ma comunque, anche in quel caso, non è una prova di correlazione perché poi bisogna fare gli esami, le analisi, gli esperimenti che provino la correlazione, che non sia solamente un caso oppure una dipendenza indiretta anche perché a torturare i dati gli si può far dire quello che si vuole diceva un saggio Comunque, tralasciando i piani diabolici super segreti affidati alle mani di oranghi sottopagati non troppo attenti alle fughe di notizie C'è covid, transumanesimo, vaccini Di cosa si parlerà mai sui gruppi di tecnocomplottisti? Il 5G! Poveri noi esseri umani contro la potenza del software vivi e troppo intelligenti e in grado di ingannare l'uomo Bruciamo le antenne! Non siamo cavie, esperimento pericoloso Si applichi il principio di precauzione Non sperimentate il 5G su di noi! Oh no, c'è un'immagine con un pomodoro che diventa nero e marcisce! Deve essere dannosissimo! Quando daranno la scarica per i poveri vaccinati con la proteina Spike La vedo molto grigia la situazione E le radiazioni elettromagnetiche che emana il 5G Sono potentissime! Proteina Spike più 5G uguale popolazione controllata Pecora topo! Esperimento per capire che il 5G fa male Ti suggerisco come misurare la potenza del smog magnetico dell'antenna Prendi una lampadina di luce, il nean, quella lunga Tienila in mano e va sotto l'antenna Quindi tienila alzata e dovrebbe accendersi se si tratta della 5G Fai qualche passo indietro fino a quando la lampada si spegne Misura quanti metri c'è tra l'antenna e te Per sapere a che distanza se trova il pericolo immediato Mmm, non lo so, non sono molto convinto Ma che possiamo fare noi d'altronde Visto che le priorità del governo sono altre Le priorità dei cittadini italiani sono le strade che crollano L'istruzione e i migranti Mentre quelle del governo sono i tagli La banda larga e il 5G Maledetti, non pensano ad altro Ma se proprio non possiamo fare niente per impedire la loro costruzione Come ci proteggiamo? Ho letto sul libro Come scardinare il sistema tecnogeno Che l'alluminio, domopac Blocca le emissioni elettromagnetiche dello smartphone Io cercherò di costruire una piccola camera da letto Tutta foderata di alluminio anche sul pavimento Sì, vai così, diventiamo tutti dei prosciutti Ok, e il 5G l'abbiamo fatto Cosa c'è in agenda? Draghi, spingere su transizione digitale Semiconduttori e chip No, no, non c'eravamo solo No, il microchip ancora no Sono troppo vecchio per queste cose Aiutami tutti prego Tranquillo Cross, rilassati un attimo Fate una tisanina Adesso ci penso io Microchip sotto cutaneo Nuova normativa europea Entro due anni ognuno di noi dovrà farselo Almeno non mi dovrò portare i contanti appresso Devo dire, secondo me, può essere una buona idea Ebbene, siamo giunti al tanto famigerato marchio della bestia Il microchip sarà inizialmente facoltativo Dove chiunque potrà scegliere Tra le tante agevolazioni O avere più con sé contanti Carte di credito Documenti d'identità Connessioni gratuite, eccetera Quando un soggetto viene ritenuto un elemento di fastidio Basterà cliccare un tasto per disinserirlo Pensateci Non vendete le vostre anime Beh, qua, oltre il fatto che Amici miei, ognuno di noi ha almeno un tablet o un telefono Non vorrei dire Però direi che qua qualcuno ha visto un po' troppo Matrix Mettiteli in quel posto a quintali i tuoi microchip Essere spreggevole Non votato Non ti vogliamo Torna dalle tue banche Beh, non votato Se avessimo votato noi Saremmo finiti un po' Non vorrei dire Il satanista Draghi sta parlando di microchip sotto cutaneo Per controllarci La Sacra Bibbia Ci parla proprio di questo Ci siamo arrivati leggendo la Bibbia E la verità Ravvediamoci che non c'è nulla da perdere Per salvare i nostri anime E delle nostre famiglie I nostri figlioli Perché nessuno pensa ai bambini? Oh no, perché nessuno pensa ai bambini? Beh, devo dire che Devo dire che i bambini Hanno più cervello No, cioè, nel senso, volevo dire Comunque Potete sempre ficcatevelo nel deretano Per voi più grande possibile Sì? Questa è follia Vogliono magari un telecomando? Si sta intaccando la libertà individuale La democrazia sociale Stiamo attenti Mi sembra la visione di un film Nell'era post-atomica Ragazzi, siamo in Fallout Ce l'abbiamo fatta Magari in Fallout 76 Così siamo anche Quella prima o terza persona Un po' più E finiamo con questa frase Questi sono pazzi Grazie Stringy Bell Trovate tutti i suoi riferimenti In descrizione Seguitelo sui suoi social Coltiviamo il futuro Dunque Dove ero rimasto? Talvolta i potenti della Terra Non basta controllare Semplicemente gli umani Vogliono controllare il nostro pianeta E allora si parla di geo-ingegneria E sì Troviamo loro Le scie chimiche La semina delle nuvole Detta anche cloud seeding Modifica la quantità E la tipologia Delle precipitazioni Per lo più pioggia Disperdendo tra le nuvole Sostanze chimiche Come ioduro d'argento O azoto liquido Che fungono da agenti condensatori Note anche come nuclei di ghiaccio Queste sostanze Sono capaci di far condensare Le goccioline d'acqua E alterare i fenomeni microfisici Delle stesse nuvole Affinché possano emettere gocce di pioggia Grandine o neve Aggiunto al grafene Naturalmente Ed ecco con cosa si abbinano le scie chimiche O dovrei forse dire Genocidio umano nel cielo Vediamo una rappresentazione di come funziona Prima Durante Dopo Chiaro? No? Tranquillo Non ci ha capito neanche chiunque Ieri sera un disastro E oggi tramonto anonimo Privo di colori Guarda caso Tutti i giorni così È più di un mese che non si vede il sole Questa settimana è l'ideale Tempo bello e tutto sole Per la semina di virus Il virus! Come ho fatto a non pensarci? Questa è un'evoluzione! Ma d'altronde Gli occhi sono inutili Quando la mente è cieca E il governo che fa? Questo sì che sono veleni e virus seminati L'aeronautica che fa? Spruzza pure Prende soldi Bambini che muoiono di fame Loro buttano soldi per modificare clima Bisogna organizzare solo una rivolta È tutto un magna magna Guarda! Alcuni ricercatori affermano che il progetto sia finanziato anche dalle multinazionali farmaceutiche Altri sostengono che il finanziamento di tali progetti sia opera dei grossi banchieri Tramite i proventi di quello che conosciamo come signoraggio bancario Obiettivamente per me ogni forma di finanziamento elencata può essere considerata attendibile Almeno fin quando non ci dimostreranno il contrario Raga non funziona così Devono dimostrare quello Non il contrario Comunque Dove ero rimasto? Chiaro Però non ho ancora capito bene come funzionano Niente raggi solari Niente metabolizzazione della vitamina D Sistema immunitario più debole Poi chissà quali sostanze contengono quelle scie Sicuramente anestetizzanti Per il cervello È per quello che qua in Italia fanno quello che vogliono nella gestione del virus I materiali delle scie chimiche assorbono l'umidità E questo si può vedere anche occhio nudo quando le nuvole vengono attaccate Ok La pioggia pulisce il cielo e questo a loro non sta bene No, al contrario Piove ed è ciò che vogliono Cioè freddo e umido Ti consiglio di informarti meglio Se vedi che dopo qualche giorno di irrorazioni piove È perché la natura si sta ribellando allo schifo che ci buttano giù No, guarda Sciolgono le nuvole Ci sono dei giorni che mette pioggia tutto il giorno E invece vedi le nuvole scomparire con le scie chimiche dietro Per evitare che il cielo piovendo si pulisca Raga, mettetevi d'accordo Sono sicuro che possiamo trovare una versione che vada bene a tutti Le scie chimiche sono un'arma per rovinare la natura I metalli e i vari materiali delle scie chimiche sciolgono l'umidità e quindi evitano che piova Vengono usate apposta per modificare il clima e sono connesse alle antenne 5G Che attraverso onde elettromagnetiche manipolano il DNA e la mente umana Ok, così va bene, dai, affare fatto Posso chiedere quale sarebbe il ruolo del pilota, secondo voi? Cioè viene addestrato, sa cosa trasporta? Sanno, ma non devono parlare Rischio licenziamento Eh, cosa non si fa per qualche migliaia di euro al mese? Codardi Comunque, abbiamo qualche prova a riguardo? Intanto, quando passano, a mia suocera ha un dolore al torace in concomitanza e non scherzo Appunto, stamattina ne parlavamo, buona serata A mia suocera Scaccumatto Bill Gates In conclusione, abbiamo qualche rimedio contro tutto ciò? L'inquinamento elettromagnetico è il padre di ogni danno biologico Anche quello che genererà il sistema 5G E' quindi fondamentale combattere il mostro, vero, e non solo il suo veleno Sì, combattiamo, insomma, l'elettrosmog, il 5G, il wifi, il router, il laptop Tutte quelle robe lì con il nome inglese Vai Che dire, siamo arrivati al termine di questo bellissimo viaggio Se non siete iscritti al canale vi invito ad iscrivervi E ad attivare la campanellina, così non vi perderete i prossimi video Lasciate un mi piace, condividete tutte le cose che possono invitare il canale a crescere E vi lascio con l'ultimo ed importante messaggio